Perché protestare di fronte alla Prefettura e poi con queste sagome che vediamo alle sue spalle? Le sagome sono indicative di per sé stesse, ci sentiamo un po' poco considerati. Noi oggi facciamo un appello a tutte le forze politiche, sia a quelle della maggioranza che a quelle dell'opposizione, perché il ruolo delle forze armate, il ruolo della Polizia di Stato sia con gli strumenti, quindi in maniera determinante, riconosciuto, finalmente anche per quello che riguarda un nuovo contratto che possa dare la possibilità agli stipendi di riprendere il potere d'acquisto, le forze che purtroppo con il pensionamento ci portano a fare tanto orde straordinario. Queste orde straordinarie ancora non sono state remunerate, parliamo di in due anni quasi 100 milioni di euro, ore che i colleghi devono fare perché su quel servizio non ti puoi assentare, perché quell'operazione deve essere portata a compimento. E quindi questo, ripeto, è un appello accorato che facciamo in moltissime prefetture d'Italia e la nostra segretaria nazionale sta manifestando contestualmente a Montecitorio per sensibilizzare queste problematiche. Mancanza di uomini e mancanza anche di mezzi? Mancanza di uomini e mancanza di mezzi uguale mancanza di sicurezza, perché purtroppo ciò che riuscivamo a fare con mezzi e uomini di qualche anno fa va di sé che ora abbiamo molte più difficoltà. Lo facciamo con sacrificio, ma è normale che le difficoltà sono maggiori. Era stato annunciato l'arrivo di alcune unità e non sono arrivate? Alcune unità purtroppo arrivano, il problema è che ce ne sono altre che vanno in pensione e quindi la bilancia pende sempre un po' verso l'emergenza. Con il segno meno. Con il segno meno, assolutamente.